A Roma il torneo del dialogo e il calcio che unisce i giovani provenienti da paesi diversi e con disagi mentali. Francesco Trapanotto. Il calcio che unisce il terreno di gioco e il campo dei miracoli. Uno spazio sociale che sorge all'ombra del serpentone a Corviale, periferia sud-ovest della capitale. E' qui che oggi si gioca il torneo del dialogo, protagonista il calcio come linguaggio universale. lo sport più popolare, capace di lavorare su alcuni aspetti della patologia mentale. Questo evento che scioglie il cuore, veramente. Bello proprio, bello stare insieme in compagnia, guarda che spettacolo. Fondamentale per voi il calcio, la relazione con gli altri? Beh sì, in periodi poi che si sono passati insomma con la pandemia, sono stati momenti difficili anche e soprattutto per le relazioni insomma. All'evento organizzato dal centro di urno Mazzacurati dell'ASL Roma 3 hanno collaborato anche l'Associazione Interculturale per l'Integrazione e Calcio Sociale. Il calcio è importantissimo ed è un complemento all'intervento più complesso ovviamente, però ha una funzione specifica perché ci permette di lavorare su due dimensioni. La consapevolezza del proprio corpo e di se stessi e sulle relazioni. Avere la capacità di relazionarsi in maniera adeguata con chi ci sta intorno è fondamentale per inserirsi nel mondo del lavoro, ritornare a scuola e avere una vita che sia quella più adeguata possibile. Nel secondo tempo di ogni partita i giocatori delle squadre si mischiano per consolidare le relazioni, tantissimi giovani, molti stranieri. Avere un'iniziativa di questo tipo in cui ci si conosce fra italiani, stranieri, stranieri anche naturalizzati italiani perché alla fine siamo, se viviamo in Italia è perché questo paese ci sta dando qualcosa e lo amiamo. Poi il calcio unisce tutti quindi è fantastico.